OTS S.P.A. è una società di spedizioni internazionali presente in Italia da 30 anni. È anche un brand con 39 partecipate nel mondo. Abbiamo presenze dall'Oriente ai paesi del Nord America e del Sud America. In Italia siamo un gruppo che conta 220 dipendenti. Abbiamo circa 11 filiali allocate nelle posizioni più strategiche da un punto di vista di spedizioni e di logistica nazionale. Quindi Milano, Torino, Vicenza, Firenze, Bologna, Civitanova Marche, Ancona, Pesaro, Roma, Taranto. E continuiamo a crescere.